Consiglio Carbone, il portiere della Marina a Porto Antico, una partita strepitosa. Faccio parte dei cinque che giocano insieme, siamo andati avanti, abbiamo vinto, adesso giochiamo alla finale, vediamo cosa facciamo. Il mio, c'è chi fa gol, io devo evitarlo, va bene. La squadra ci ha messo in difficoltà, sono giovani ancora, noi siamo un po' più anzianotti, però ce l'abbiamo fatta e va bene, andiamo avanti. Ci credete nella finale, visto che l'anno scorso avete anche vinto il torneo? Beh sai, ci crediamo sempre, se no non giochi, giochi sempre per vincere, quindi speriamo, adesso vediamo giovedì, vediamo come va, siamo qua, giochiamo e ci divertiamo, e finché ce la facciamo soprattutto, e poi va bene, va tutto bene.